numero 5 renky usb 3.0 rilunga 45 è un dispositivo favoloso per tutti coloro che desiderano una soluzione veloce facile a costo contenuto dalla finitura nei toni del nero lucido al design compatto e leggero che lo rende facile da trasportare questo dispositivo si installa in pochi secondi e garantisce velocità fino a 1000 megabit al secondo estremamente adattabile questo prodotto può essere utilizzato con la maggior parte dei sistemi operativi più diffusi senza essere accompagnato da driver esterni una missione di successo per tutti coloro che desiderano un'esperienza senza problemi di rete LAN di alta qualità in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 4 ijet 168026 è un adattatore che può essere apprezzato da chi desidera funzionalità avanzate e portabilità grazie alla sua versatilità è in grado di offrire un'esperienza senza problemi su una rete LAN il connettore usb 3.0 garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 1000 megabit al secondo ideale per un uso anche multitasking la qualità di costruzione è molto buona c'è una robustezza e una compattezza solida che ne fa un ottimo dispositivo per il trasporto la semplicità di utilizzo è in parte dovuta all'immediata compatibilità con windows mac os e linux infatti non c'è bisogno di realizzare configurazioni e installare driver specifici se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 3 l'adattatore gigabit ethernet uni è una delle migliori soluzioni usb lan sotto i 20 euro presenti sul mercato realizzato in alluminio resistente offre tre porte usb aggiuntive con standard 3.0 rendendosi una vera e propria hub supporta velocità di trasferimento dati da 10 100 e mille megabit al secondo almeno inoltre non richiede alcuna alimentazione esterna nell'installazione di driver per funzionare lasciando all'utente il solo compito di collegarlo ed iniziare a sfruttarlo subito per maggiore comodità il cavo di alimentazione è intrecciato in nylon per aumentarne la robustezza e la flessibilità inoltre sono presenti due indicatori led che segnalano lo stato di funzionamento se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 l'adattatore u green ethernet usb è una soluzione high tech dall'innovativo design che sta migliorando l'efficienza lavorativa e le sessioni di gioco su nintendo switch dotato di tre porte usb 3.0 uno porta gigabit ethernet r i lunga 45 e cavo di alimentazione è tascabile e può essere trasportato ovunque la qualità dei connettori e le connessioni veloci e stabili garantite dall'adattatore ethernet gigabit mille megabit al secondo lo rendono ideale per un uso intensivo è anche un'ottima opzione per i giocatori nintendo switch che potranno collegare la consola alla rete lan e avere una connessione stabile ed efficiente oltre al collegamento ethernet l'adattatore offre tre porte usb 3 in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 1 questo prodotto si presenta come un adattatore usb c ethernet di qualità eccellente in grado di mettere a disposizione una velocissima connessione gigabit ethernet e la velocità massima di trasferimento dei dati di 1000 megabit al secondo lavorerà con una maggiore velocità se collegato a una porta usb 3.0 ma sarà compatibile anche con tutte le precedenti versioni il dispositivo progettato da tp link leader nel settore del networking presenta un design solido e resistente leggero al punto giusto ma si posiziona meglio su un portatile piuttosto che su un desktop essendo di dimensioni contenute la pratica dotazione di tre porte usb e di un led di stato che segnala cambiamenti di stato ne fanno un prodotto molto versatile e interessante trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video